La scuola di alta formazione sul ragionamento clinico in epoca digitale parte da un'idea FADOI con il supporto della Federazione delle Società Medico-Scientifiche FISM nell'affrontare un problema molto importante, quello di creare delle competenze digitali al medico internista. L'evoluzione tecnologica ha portato a un cambiamento profondo nell'approccio al rapporto medico-paziente e questo cambiamento profondo necessita di formare i giovani medici a un nuovo tipo di approccio. L'approccio che non può eludere dal rapporto medico-paziente classico, quale l'osservazione, quale l'anamnesi, quale la visita medica, quale l'utilizzo del fonendo. Ma poi l'evoluzione dell'ecografia, l'evoluzione delle app, dei sensori, la telemedicina, la televisita e tutte le novità che permettono di fare una diagnosi più accurata, di poter monitorare alcuni aspetti dell'aderenza terapeutica con le nuove tecnologie, ci permette di cambiare completamente l'approccio e la relazione tra il medico-paziente. La scuola affronta in maniera sistematica tutte queste problematiche per creare le competenze. La scuola è formata insieme all'Istituto Superiore di Sanità, insieme alla Società Italiana di Telemedicina, insieme all'Osservatorio Digitale in Sanità in maniera tale da avere tutte le competenze professionali per creare quelle competenze, quella sensibilità digitale al medico per una medicina che rimanga umana ma che sia in grado di affrontare con le nuove tecnologie tutte le sfide del futuro.